Una truffa che ha permesso a quattro imprese di risparmiare sull'IVA, dichiarando false sponsorizzazioni a una società sportiva dilettantisca in Lavagna che ha emesso le fatture. È stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Genova grazie al lavoro del comando di Chiavari che ha portato alla denuncia di 5 persone, i legali rappresentanti della società sportiva e delle quattro imprese operanti nel Tiguglio e il sequestro di beni ai soggetti indagati per un valore di circa 240 mila euro. Il comandante della Guardia di Finanza di Chiavari, Michele Luorio, ci ha spiegato che l'associazione sportiva riceveva i soldi dalle imprese, emettendo fatture che giustificavano le entrate come sponsorizzazioni, cosa che non accadeva perché poi i soldi venivano restituiti in contanti ai finti sponsor. L'associazione sportiva giustificava queste uscite come rimborsi spese per atleti dirigenti. L'importo totale delle fatture contestate è di oltre 461 mila euro che, grazie al regime fiscale agevolato delle società sportive, ha consentito un risparmio in debito di circa 258 mila euro tra imposte dirette ed indirette. Il giro illegito è stato scoperto grazie alle segnalazioni di operazioni sospette avvenute dal 2016 al 2019 da parte delle banche insospettite dai frequenti prelievi di contanti dell'associazione sportiva. I controlli sono stati fatti dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Procura di Genova. I reatti contestati sono emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta con l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La Procura ha chiesto ottenuto il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità dei soggetti sottoposti alle indagini per un valore di circa 240 mila euro. Il comandante Iguorio spiega che si tratta di manovre illecite e non nuove per i finanzieri. Già in altri casi sono state trovate società sportive che sfruttavano il regime fiscale di favore con l'IVA al 3% per emettere fatture non giustificate.